Tre nuove applicazioni per il pagamento della sosta negli spazi blu su strada gestiti da Atam utilizzando il proprio smartphone. Da oggi quindi ad Arezzo la sosta si potrà pagare anche a distanza tramite cellulare. Ovviamente resteranno in vigore anche i metodi tradizionali. Le tre applicazioni sono Easy Park, My Cicero ed infine Ping. Il pagamento della sosta con il tagliandino ottenuto dalla macchinetta che viene riempita di monete a volte porta difficoltà perché non si trova la macchinetta, perché magari la macchinetta è fuori servizio, perché non abbiamo i soldi nel borsellino e allora questo si potrà fare con un'app direttamente. Ma soprattutto la novità importante è questa una volta che la sosta programmata giunge a termine se si è iscritti a quella app ci arriva un messaggino sul telefonino che ci dice guarda che ti sta per finire il credito di sosta e tu potrai attraverso il telefonino lo smartphone dare indicazioni di prolungamento e ti verrà prelevato soltanto quello che tu avrai consumato nel momento in cui vai a riprendere la macchina. Quindi un servizio diciamo che fa pagare il giusto ma soprattutto rende molto più facile la gestione del parcheggio in città. Gli asilari al controllo della sosta di Atam sono infine dotati di un apposito palmare che con la sola lettura della targa permette di verificare se quel veicolo ha prenotato e anche pagato la sosta. Il controllo viene effettuato dai nostri addetti attraverso un'applicazione, loro verificano direttamente se quella targa in quel caso che è mancante del biglietto quindi è sotto uno di questi gestori quindi meramente mettono la targa hanno un'applicazione nel loro smartphone che gli permette di capire se quello è coperto e quindi passano oltre se non è coperto chiaramente è fuori regole quindi c'è la multa è normale.